Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla via Crucis del Messina, chissà quanti di voi in questo luogo più volte sono stati pellegrini in preghiera per raccontarvi cosa accadde nel dicembre del 1931, perché è proprio Padre Agostino che nel suo diario ci racconta qualcosa di eccezionale, si trattava della vestizione di Suor Beniamina crocifissa del Divino Amore, al secolo Giuseppina Villani, una sua figlia spirituale, vestizione che venne proprio celebrata dallo stesso Padre Agostino a Firenze l'8 dicembre del 1931. Padre Agostino gli racconta a Padre Pio in questa giornata della sua permanenza in questo luogo, specie a Coverciano, parlandogli delle suore. Al suo racconto, specie in modo particolare della vestizione della cara figliolina, piangeva di commozione Padre Pio, benedicendo e ringraziando Gesù. E scrive proprio questo Padre Agostino nel suo diario, siccome a Firenze una suora mi disse che Padre Pio una mattina dopo la comunione le era apparso per confortarla e benedirla, io voglio accertare anche da lui questa situazione. Lui alla domanda, è vero Padre che spesso ti fai dei bei viaggetti addirittura fino a Firenze? E lui annui, umilmente scrive Padre Agostino, ma poi aggiunge, ma la suora Padre mi disse anche che dopo ti pregò di andare da un'altra consorella, ovvero proprio da suor Beniamina e tu rispondesti che non avevi l'obbedienza, è vero Padre? E Padre Pio sorridendo annui. Questa cara animuccia di cui parla Padre Agostino nel suo racconto poi aggiunge che va spesso anche lei in bilocazione da Padre Pio. Si scambiano tra loro queste visite spirituali e misteriose per effetto della bilocazione, scrive Padre Agostino. L'8 dicembre 1931 per la storia veste l'abito religioso prendendo il nome di suor Beniamina, crocifissa del divino amore, la sua figlia spirituale Giuseppina Villani, questa sacra funzione che viene presieduta direttamente da Padre Agostino che ne era il direttore spirituale della Villani e che aveva incoraggiato la stessa ad intraprendere questa via consacandosi al Signore. Purtroppo uscì dal monastero 5 anni più tardi a causa della sua salute molto cagionevole. Grazie a tutti.